Duro a fondo del capogruppo di Forza Italia Valerio Longo che in una nota si è scagliato contro il presidente dell'ASI Antonio Visconti. Al centro dell'invettiva la questione dell'area interportuale e la divisione fra logistica e industria. Il presidente dell'ASI, spiega Longo, continua a mancare di rispetto al nostro comune con un intervento degno della vecchia Unione Sovietica. Nel 2018 ancora si parla di divisione tra logistica e industria che crea solo contenziosi e guerre inutili. Noi siamo per una variante urbanistica che dichiari tutta l'area come zona D. Non vi è più distinzione tra logistica, industria e commercio per l'insediamento. La differenza si fa nel pagamento degli oneri. Fino a quando non faremo il PUC, l'area dell'interporto ha una potestà condivisa tra ASI, provincia e comune. Condivisa, conclude il capogruppo di Forza Italia. Parola sconosciuta all'ASI. Di certo la programmazione del territorio spetta al comune di Battipaglia.